Tricase si estende tra le ultime propaggini sudorientali delle Serre Salentine. Il territorio rientra all'interno del parco regionale Costa-Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, un patrimonio ricco di storia e di antichi legami con il Levante, come testimonia all'abbazia bizantina del mito che ancora oggi svetta con la sua torre nelle campagne Tricasine. L'intrecciarsi di differenti vicende e tradizioni storiche rendono Tricase un unicum urbano nel contesto dei comuni salentini. Con la famiglia principesca De Gallone Tricase diviene nel 600 il centro amministrativo di un vasto territorio feudale che da salve si estendeva verso Supersano e Nociglia. Le fortune del casato risplendono ancora oggi nelle prestigiose committenze artistiche conservate nelle chiese cittadine, opere di alto valore realizzate da rinomati artisti della serenissima Repubblica di Venezia. Nel 900 Tricase diviene parte fondamentale delle attività di produzione e lavorazione dei tabacchi nella provincia di Lecce e sviluppa nel corso del XX secolo un'attitudine economica al terziario. Ad oggi con i suoi 17.000 abitanti si attesta nel territorio del Capo di Leuca come centro di servizi che spaziano dall'istruzione al commercio, alle piccole imprese, ai trasporti e in particolar modo al settore sanitario con il suo polo ospedaliero d'eccellenza. Il centro storico di Tricase conserva ancora il fascino del passato dove l'edilizia popolare di fine Cinquecento fa sintesi con i sontuosi palazzi delle famiglie aristocratiche del paese. Anticamente la strada principale del borgo era attraversata dai numerosi pellegrini diretti in viaggio verso il santuario della Madonna di Finibus Terre a Santa Maria di Leuca. Sulla strada si può ammirare la chiesa tardo quattrocentesca della presentazione di Santa Maria al Tempio. Di fronte ad essa vi è la casa palazziata appartenuta alle famiglie Montano Pisanelli. Ancora oggi il centro storico di Tricase con il suo alveare di vicoli e stradine permette di fare un salto nel passato. Questo grazie a scorci da altri tempi che affascinano oltre che visitatori di luoghi lontani anche i Tricasini stessi. Tra gli scorci architettonici più eleganti della provincia di Lecce, Piazza Pisanelli è il salotto a cielo aperto dei Tricasini. Da sempre considerata il punto di aggregazione sociale, la piazza è incorniciata da una gamma di monumenti afferenti ad epoche diverse. La chiesa di San Domenico di Guzman domina lo scenario architettonico, mentre il Palazzo dei Principi Gallone di Tricase offre con la sua struttura austera e lineare una continuità prospettica all'architettura della piazza. È un ventaglio di epoche e stili differenti, scandito dal gusto neoclassico all'architettura cinquecentesca. Al centro della piazza si staglia la statua bronzea del Tricasino Giuseppe Pisanelli, realizzata nel 1924 dallo scultore ruffanese Antonio Bortone. Pisanelli fu un importante giurista e patriota italiano, con l'Unità d'Italia divenne Ministro di Grazia e Giustizia dal 1862 al 1864. La maestosa statua rende onore al prestigio del noto Tricasino e dona un tocco di eleganza all'intera piazza. Il Palazzo Principesco è frutto di differenti modifichi e accorpamenti avvenuti tra il XV e il XX secolo. La maggior parte dei lavori furono realizzati nella seconda metà del Seicento, grazie al volere della famiglia Gallone, quando Tricase diviene capoluogo di un vasto principato esteso nel Salento Meridionale. Tra i Tricasini la struttura è conosciuta anche come Castello, in quanto per più di 300 anni ha offerto protezione e sicurezza agli abitanti del Borgo. Nel corso dei secoli il Palazzo ha conservato questa sua duplice funzione, quella difensiva, riscontrabile nella sua austerità e nella sua compostezza militaresca, e quella rappresentativa del potere feudale, caratteristica insita nella sua maestosità e nella magnificenza degli spazi interni. La Sala del Trono è la testimonianza diretta dell'opulenza e delle ricchezze della famiglia dei Principi Gallone di Tricase. Al centro del pavimento a mosaico fa sfoggio lo stemma della nobile famiglia. In questa sala i Principi Gallone ricevevano gli agenti di commercio, amministravano i loro vasti patrimoni ed esercitavano i loro diritti feudali. I Gallone, probabilmente di origine greca, appartenevano alla nuova aristocrazia salentina del secolo XVII, legata al contesto finanziario della produzione ed esportazione dell'olio e dei cereali. Alla struttura del palazzo è annessa l'antica Turris Magna, di epoca orsiniana, risalente al 1400. Le mura sono spesse e poderose, infatti rispecchiano lo stile delle tradizionali architetture difensive medievali di terra d'Otranto. Nelle segrete della torre si conservano centinaia di graffiti incisi nel corso dei secoli dai prigionieri. Al 500 devono risalire le incisioni eseguite da alcuni detenuti turchi ottomani. Tra queste spicca il volto del Giannizero. Dal 1954 il palazzo è proprietà comunale ed è il contenitore culturale più importante del paese. Nelle giornate luminose e soleggiate, la seicentesca chiesa di San Domenico proietta la sua elegante ombra barocca e frastagliata sul salotto a cielo aperto di Piazza Pisanelli. L'edificio si erge appena fuori dal borgo antico, fronteggiando la chiesa matrice del paese e sorvegliando il palazzo feudale dei Principi Gallone. Il campanile, con la sua tipica guglia barocca, sbetta su tutti i monumenti civili e religiosi Tricasini. L'interno è caratterizzato dalla presenza del cielo ligno appeso, decorato con motivi turchesi e dorati. Gli altari laterali mostrano i pregiati intagli del gusto barocco. È un trionfo di statue e putti angelici, caratteristici esempi della civiltà della Pietra Leccese. Dal 1810 i confratelli del Santo Rosario si occupano della cura dell'edificio e della sua custodia. La confraternita venne istituita a Tricase nel 1579 dai padri domenicani ed è tra i sodalizi laicali più antichi della provincia. La chiesa è annessa all'antico convento domenicano dei Santissimi Pietro e Paolo, soppresso nel 1809 dalle leggi napoleoniche ed oggi sede di diversi uffici comunali. Il portale d'ingresso è situato sul versante nord dell'edificio. La parte soprastante è abbellita da un piccolo campanile e dall'orologio civico. Sulla facciata è riportata la targa in marmo posta in memoria delle vittime del 15 maggio 1935, quando durante una protesta animata dalle operaie tabacchine furono uccisi cinque cittadini di Tricase. La CAIT, o meglio l'azienda cooperativa agricola industriale del capo di Leuca, per decenni ha rappresentato il polo economico e manifatturiero di Tricase e del circondario. Venne istituita dall'onorevole Alfredo Codacci Pisanelli nel 1902 allo scopo di organizzare le fasi della trasformazione del tabacco, dall'approvvigionamento alla sua preparazione in sigarette. Ancora oggi spiccano i due grandi capannoni che costituivano gli ambienti di lavoro e di socializzazione dei lavoratori. In alcune sale si conservano le strumentazioni e i macchinari dell'epoca, utilizzati dagli operai nelle fasi di movimentazione e trasformazione del prodotto. La CAIT svolse una funzione importante per l'incremento finanziario dell'economia agricola, in particolar modo per le famiglie dei contadini di Tricase e dei comuni del Capo di Leuca. Il complesso è un monumento rappresentativo dell'archeologia industriale salentina, in particolar modo dell'intero Sud Salento. Il bene è stato acquistato dal comune di Tricase nel 2002 con l'intento di avviare attività culturali legate alla valorizzazione e promozione del territorio e della sua storia. Uno degli edifici più suggestivi di Tricase è la Chiesa della Madonna di Costantinopoli. conosciuta anche come la Chiesa dei Diavoli. La chiesa venne fatta realizzare in aperta campagna nel 1685 da Jacopo Francesco Arborio Gattinara, sotto il principato di Stefano Gallone per omaggiare la Santa Vergine. Sul piazzale dell'edificio si sono celebrate per secoli diverse importanti fiere agricole oramai cadute in disuso. La più antica, istituita dal Marchese della Gattinara subito dopo la realizzazione della Chiesa, era intitolata lo Spirito Santo e si teneva il giorno di Pentecoste. All'800 risaliva invece la fiera dedicata al patrono di Tricase San Vito Martire, programmata ogni 15 giugno. La particolare architettura dalla forma ottagonale ha sicuramente influenzato il nascere di antiche leggende. Infatti, secondo alcuni racconti Tricasini, l'edificio venne costruito dal diavolo su richiesta del vecchio principe. Sulla strada che collega il paese a Tricaseporto si erge, con i suoi 700 anni d'età, uno tra gli esemplari più antichi al mondo di quercia vallonea. Un tempo le ghiande prodotte dalla quercia erano utilizzate dai conciatori Tricasini durante le fasi di lavorazione dei pellami, allo scopo di ottenere un manufatto più morbido grazie alla presenza del tannino. I Tricasini la chiamano anche la Quercia dei Cento Cavalieri. Infatti, secondo una fantasiosa e anacronistica leggenda medievale, sotto le sue ampie fronde trovarono riparo un centinaio di soldati guidati dall'imperatore Federico II di Svegli. La vallonea è un'essenza rara nel contesto europeo, presente in poche zone del Salento e dei Balcani, probabilmente giunta in Italia durante il dominio bizantino e di frequenti scambi commerciali con il Levante. La sua maestosità domina ancora oggi il paesaggio delle campagne Tricasine ed è testimonianza della magnificenza della natura. Tricaseporto è la marina principale del territorio comunale. Già presente nei documenti del 1300, il porto Tricasino è costituito da un'insenatura naturale dove al suo interno sfociano diverse sorgenti d'acqua. Nel corso del Novecento, l'area portuale è stata ampliata ed oggi è ravvivata dalle imbarcazioni dei turisti stranieri, dai pescatori locali e dalle associazioni. Tra le attività più suggestive, l'Associazione Magna Grecia Mare ha riportato a nuova vita un caicco antico di 100 anni allo scopo di valorizzare la marineria tradizionale e recuperare l'antico uso della vela latina. Come nel passato, ancora oggi, i pescatori Tricasini si dedicano alle loro attività produttive, offrendo tra l'altro diversi servizi di accoglienza innovativi legati all'ittiturismo, all'escursione in grotta e alla cucina tipica casereccia. Spostandoci invece sotto le pendici del promontorio calino, si raggiunge Marina Serra. Il panorama è dominato dall'antica Torre Palane, fortezza costiera realizzata nel Cinquecento per difendere il territorio dagli attacchi nemici provenienti dal mare. Torre Palane comunicava a sud con Torre Nasparo, del comune di Tigiano, e a nord con l'ormai scomparsa Torre del Porto di Tricase, abbattuta dalla flotta britannica nei primi anni dell'Ottocento. Particolare è la Piscina dei Monaci, un'insanatura artificiale ricavata per i bagni dei frati domenicani del Convento Tricasino e ampliata nel Novecento. Localitata il paesaggio a meno, la Marina richiama tantissimi dilleggianti e turisti nel periodo estivo. Nei mesi caldi, alle prime luci dell'alba, dalla costa di Marina Serra è facile scorgere diversi branchi di delfini intenti a solcare con eleganza le acque blu del canale d'Otranto. Questa serie di caratteristiche della Marina di Tricase permette ai visitatori di godere di uno splendido panorama, assaporando il profumo della salsedine mentre si è immersi tra la vegetazione della scogliera e il blu del mare cristallino. e questo è lì. Grazie a tutti.